io sono catiuscia e mi occupo di persone adoro scrivere viaggiare sognare la gentilezza fa parte di me e arrivo da molto lontano da una nonna che da piccolina tra uno scappellotto un abbraccio continuava a dirmi si gentile si gentile si gentile la gentilezza è uno stile di vita è qualcosa che ci portiamo dentro e che dobbiamo allenare quotidianamente con dei gesti rivolti verso noi stessi e verso gli altri la gentilezza è magia ed è bellezza che tutto trasforma al bar camp insieme a stefano parleremo di gentilezza a colori il titolo del vostro workshop mi sembra un po evidente gentilezza a colori parole ed emozioni per ritrovare ritrovarsi ma stefano che cosa è per te la gentilezza e che cosa faremo durante i nostri incontri grazie catiuscia per la bella e difficilissima domanda la gentilezza per me è una un'espressione una bellissima espressione che gratifica noi stessi e gratifica gli altri che ha due matrici diverse una è la matrice interna ciascuno di noi a testa e cuore un contiene gentilezza declinandola in maniera diversa noi andremo a vedere la declinazione della gentilezza quindi agire la gentilezza e lo faremo in quattro ambiti quattro ambiti in cui la gentilezza si può agire e ciascuno di noi l'ha agita la sta agendo la vorrebbe agire il primo ambito è agire la gentilezza verso noi stessi e la parola chiave ascoltarsi il secondo ambito è agire la gentilezza indiscriminatamente e la parola chiave accoglienza il terzo ambito su cui lavoreremo è agire la gentilezza nel contesto del lavoro quindi la gentilezza che chiamiamo situazionale il quarto e ultimo ambito di indagine e di lavoro insieme perché faremo una cafe experience che metterà al fattore comune le desiderata e i bisogni di esprimersi e i pensieri le azioni di tutti e invece la gentilezza nelle fasi del cambiamento e la parola chiave è cambiamento comunque ti usci abbiamo fatto un bellissimo lavoro e io la ringrazio tantissimo per avermi coinvolto e sono certo che sarà un successo anche perché tutti avremo modo di esprimere la nostra gentilezza le nostre azioni di gentilezza e metterle condividerle anche attraverso uno scritto che rimarrà e sarà tesoro di tutti grazie molte vi aspettiamo alla gentilezza colori che è il workshop che si tiene all'interno del barcamp sulla gentilezza ad ivrea vi aspettiamo lì grazie ci vediamo il 17 il 18 giugno a ivrea al primo barcamp interamente dedicato alla gentilezza ma la gentilezza di che colore è per noi può avere tutte le sfumature dell'arcobaleno non mancate vi aspettiamo perché essere gentili fa bene